Nasce ufficialmente a Trani il tavolo permanente per la sicurezza e la legalità. Il Consiglio Comunale, riunitosi ieri pomeriggio, ne ha approvato all'unanimità la Costituzione. L'iniziativa nacque all'indomani degli arresti dei responsabili del racket di estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori locali. La Procura invitò la cittadinanza a fare fronte comune contro questo tipo di fenomeni criminosi e il Sindaco Bottaro si fice carico della proposta di istituire un tavolo permanente aperto alla partecipazione di tutte le associazioni del territorio e anche di una rappresentanza consigliare. Il primo cittadino ha anche annunciato che il comune si costituirà parte civile contro gli estorsori. Respinta invece la mozione strade sicure presentata dai gruppi di centrodestra con la quale per fronteggiare l'emergenza criminalità si chiedeva l'intervento dei militari dell'esercito e un potenziamento degli strumenti di sorveglianza del territorio. Approvati i punti all'ordine del giorno con i quali si definisce il regolamento relativo all'imposta unica comunale e le scadenze della Tari scaglionate in quattro rate. Il primo acconto è previsto il 2 maggio, il secondo il 30 giugno, il terzo il 31 agosto e il quarto il 31 ottobre. Quinto e ultimo punto all'ordine del giorno la rottamazione delle cartelle dell'ICI. Grazie alla proroga dei termini decisa dal Parlamento l'amministrazione comunale ha potuto ripresentare in consiglio il provvedimento che venne clamorosamente ritirato dalla discussione un mese fa. Il regolamento approvato dispone che il debitore possa presentare istanza di adesione alla definizione agevolata entro il 1 giugno 2017.